...dile in camera allora... ... 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 Un tipo al meglio per la pizza, grandissima, si chiama la canta e la chiamocchietta di Roma, vuol dire che si vuole superfitto, e dalla serie Tony Tomaro Show ha avventato di baccar uno! E' pagato! E' pagato! E' pagato!